Ciao a tutti, benvenuti su MintiTaro. Oggi vediamo una tecnica per dare uno sguardo più profondo alla lettura dei tarocchi, anche se inizialmente magari possiamo fare una domanda di tipo predittivo, come per esempio, troverò lavoro, tornerà da me, cosa capiterà la prossima settimana, al lavoro, eccetera. Prima di iniziare però mi presento per chi non mi conoscesse, sono Minti di MintiTaro, sono una cartomante ed una tarologa e mi focalizzo ad aiutare i lettori di tarocchi a migliorare le loro prestazioni, le loro letture fino ad arrivare a un livello professionale in modo da poter avviare la loro attività professionale, la loro carriera con i tarocchi. Se volete più informazioni sui corsi e programmi che offro sia a livello individuale che di gruppo potete scrivermi a mintitaro.gmail.com oppure inviarmi un messaggio in messenger, mi trovate come alesminti. Ma adesso iniziamo. Oggi vediamo appunto come dare uno sguardo più profondo alla lettura dei tarocchi. I tarocchi hanno molteplici registri di lettura, l'ho detto più volte, possono essere utilizzati per rispondere a domande quotidiane di tipo pratico, per dare consigli di tipo pratico e per dare anche una lettura più psicologica o anche più esoterica, nel senso cercare di capire un po' diciamo i limiti profondi o cosa bisogna focalizzarci a livello più profondo anche rispetto alla domanda posta appunto. e in questo caso vediamo la tecnica della quinta essenza. In un video precedente, di cui io posterò il link sopra, ho già spiegato cosa è la quinta essenza in ambito esoterico. è uno dei cinque elementi esoterici. Spesso si parla dei quattro, no? In relazione soprattutto ai tarocchi, ovvero aria, terra, acqua e fuoco, però in realtà sono cinque. Il quinto ha vari nomi, il più comune è etere, però veniva chiamato anche quintessenza, specialmente in ambito alchemico. Quintessenza indica proprio, dà l'idea proprio dell'estrapolazione di una essenza dagli altri quattro elementi, perché la quintessenza era considerata la parte più pura che poteva essere trovata nella realtà attorno a noi, in tutto ciò che è reale, che può essere un animale, un essere umano, una pianta, una pietra, eccetera, la cui, diciamo, costituzione includeva appunto anche l'elemento etere, che veniva appunto considerato la quintessenza, perché attraverso il processo alchemico veniva estrapolata, nel senso venivano eliminati tutto ciò che non costituiva l'etere, quindi con un processo di eliminazione, di sottrazione, ciò che rimaneva era appunto l'etere, quindi la quintessenza. La cosa più, diciamo, ciò che rimaneva, quindi la parte più pura della materia, fondamentalmente, quindi tolta la materia, tolte gli altri quattro elementi, eccetera. La quintessenza in una lettura, quindi ci dà informazioni profonde sulla lettura, ci informa sul tema a cui bisogna prestare veramente attenzione, anche se la domanda può essere di tipo pratico, può essere di tipo cartomantico, quindi predittivo, ci dà appunto uno spunto di riflessione su cosa veramente bisogna lavorare. Quindi è volendo l'aspetto più spirituale di una lettura e è rappresentato in una lettura, appunto, questa quintessenza rappresentata da un arcano maggiore e si può ottenere tramite un calcolo matematico. Vi faccio un esempio. Poniamo che la signorina Flaminia venga da voi e vi chieda tornerà da me il mio ex fidanzato e voi decidete di fare una stesa a cinque carte libera, per esempio. Mischiate le carte, smazzate il mazzo e fate estrarre o estrarete voi cinque carte. Perfetto. Dopodiché iniziate la vostra lettura e leggete le carte come sapete fare. Questa è una domanda, diciamo, di tipo molto pratico, quindi le leggete a livello pratico e anche a livello predittivo, no? Come con il metodo che volete voi e date la vostra lettura. Questo ovviamente è un caso totalmente di studio perché non c'è la signorina Flaminia qua con noi in questo momento. Comunque le carte scelte sono, le carte estratte sono il sole, il cavaliere di spade, il sette di spade, il paggio di coppe e il sette di denari. Ora, per come leggo io, così a livello veloce, diciamo che si tornerà, si farà risentire, ma ci vorrà tempo. Non sarà la prossima settimana e probabilmente neanche il prossimo mese, però in questo momento appunto sta cercando di allontanarsi da te, quindi non sarà per il momento perché c'è il sette di spade, c'è il sette di denari, eccetera, però arriverà. E adesso però vogliamo fare una, un livello, avere un livello di lettura un pochino più profondo e capire esattamente però su cosa deve focalizzarsi in relazione a questo suo ex, la signorina Flaminia, no? E come facciamo? Sommiamo i numeri di tutte le carte che avete estratto per la stesa. La numerologia, degli arcani minori è abbastanza chiare, anche degli arcani maggiori, quindi abbiamo, che so, il diciannove, il sette di spade, quindi è un sette, e un sette di denari, sempre un altro sette. Per quanto riguarda le figure, potete attribuire il numero dieci ciascuna di esse. Quindi voi sommate i numeri, facciamo un esempio, prendete un foglio di carta, se come me non siete molto bravi a matematica, e vediamo che il sole è il numero 19, la carta del cavaliere, essendo una figura, ha il numero dieci, perché tutte le figure hanno il numero dieci, poi abbiamo il sette di spade, quindi aggiungiamo un altro sette, c'è un paggio di coppe che è un altro dieci, e c'è il sette di denari che è un altro sette, e fate semplicemente la somma. Adesso la somma, dieci più dieci fa venti, più sette più sette fa quattordici, quindi trentaquattro, più diciannove fa quarantaquattro, cinquantatré. E questa è la somma di tutti i numeri. Dopodiché dovete, una volta avuta la somma, ridurla fino ad un numero compreso fra uno e ventuno, appunto perché noi ci basiamo sugli arcani maggiori per leggere la quintessenza della lettura. Quindi verrà cinque più tre uguale otto, che è la carta della forza. E quindi prendete la carta della forza se volete, eccola qua, vedete la carta della forza e cosa ci dice la carta della forza come significato più profondo di questa lettura, cioè su cosa si deve focalizzare la signorina Flaminia in relazione al suo ex fidanzato. Innanzitutto di valutarsi bene, nel senso di capire la propria forza, di dare valore a se stessa sicuramente, e siccome la forza è anche una carta di perseveranza, di appunto essere perseverante, di non arrendersi, perché appunto anche in linea con quello che ci dicono le carte a livello proprio predittivo, questo ex si farà risentire, però quindi sicuramente può attendere, farsi forza, non crollare, però allo stesso tempo anche dare valore a se stessa come persona, a se stessa all'interno della relazione, cioè non svendersi fondamentalmente. Bene, spero che questo consiglio sulla quintessenza vi sia utile, è un modo per integrare immediatamente una lettura di tipo più cartomantico predittivo con una più spirituale, più anche da da taro coaching, quindi di aiuto a livello diciamo di consigli, di riflessione su se stessi che si può dare appunto ai consultanti che vengono da noi. Bene, spero che vi sia piaciuto il video, in questo caso vi invito a mettere like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo presto. Ciao! Ciao!